Le apparenze ingannano. Traditore. Sembra incredibile, ma non so proprio cosa dire. Cleopatra è stata avvelenata da Roma. E noi dalla sua infedeltà. Daremo fuoco all'Egitto. L'ordine è più forte adesso. Hanno Roma. Un momento, aspettate. Ho sbagliato. È stata colpa mia. Quando mio figlio è morto, ho reagito con furore. E rabbia. Ma così li ho solo resi più forti. Siamo diversi. Ma abbiamo combattuto insieme per riportare Cleopatra sul trono. È stato un errore, amici miei. Ma almeno ci ha fatto incontrare. Ora i nostri nemici si nascondono dietro le corune. agendo all'ombra di re e regine. Ma chi è che agisce nell'ombra beneficio del popolo? Siamo noi. Sta nascendo qualcosa da tutto questo. E comincia qui. E ora dobbiamo continuare a combattere, a difendere la libertà del popolo. E per quanto piccola, la nostra confraternità è la nostra speranza. Non abbiamo bisogno di nessuna corona. I nostri valori, ciò per cui agiamo, ciò in cui crediamo, ci terranno uniti. E prometto che per tutti i figli d'Egitto sarò il padre che non sono stato quel giorno a Siwa. Per la confraternità! La confraternità! La confraternità! Avevi ragione. Mi sono fidata della Dea sbagliata. C'è una cosa che ancora non capisco. Settimio. Ha preso lo scettro di Alessandro. Perché? Infatti, lui e Flavio erano troppo interessati alla tomba di Alessandro. Partiamo da lì. Via dalla strada! Levatevi di passo per la testa!